ragazzi vi ricordo per chi volesse sostenere il canale può fare soldi esclusivamente gratis iscrivendosi ed attivando la campanellina stasera ore 22 e 40 ti aspetto in live tanto domani le feste tempo brutto se non hai nulla da fare guarda la live io ti voglio solamente dire una cosa la seconda stella per me è di moratti anche per gran parte anche del mio presidente il mio presidente è moratti massimo a cui sono legatissimo a quanto pare non è solo il mio ma è il presidente di migliaia di interisti ancora è quello il presidente ci ha sempre rappresentato nessuno lo cita in queste ore ma io vorrei dire la seconda stella visto che poi lui lascia un inter con 18 scudetti la seconda stella è di massimo moratti io la seconda stella nel mio piccolo la dedico a massimo moratti il mio presidente papà moratti ti voglio bene mi sono sentito rappresentato in tutto e tutti eh ma moratti ha incominciato a fare i debiti e ha lasciato i debiti a zang zang ha quadruplicato il debito di moratti e zang non mette un euro da quattro anni tra l'altro eh la gestione degli ultimi anni per come la vedo io ci ha rallentati per mancanza di investimenti perché eh qualora ci fossero stati degli investimenti minimi avremmo avuto la seconda stella secondo me dall'anno scorso non avremmo regalato lo scudetto al milan e quest'anno la mancanza di investimenti ci ha ci ha fatto andare fuori dalla Champions League quindi io continuo a dare i meriti a dirigenza e all'allenatore io però devo riconoscere a Steven Zhang una grandissima umiltà guarda mi costa anche farlo perché non mi sta simpaticissimo ma sono sincero non mi sta simpatico per nulla ma per come si comporta e per gli atteggiamenti che ha la grande umiltà di Steven Zhang che chiama Moratti e gli dice guarda che io io sono quello della seconda stella ma il gran merito è tuo sia per Marotta e per tutta e per tutto l'aiuto che mi hai dato nei primi due anni perché per i primi due anni eh Moratti si tiene si tiene Zhang sotto protezione gli spiega cos'è il calcio gli spiega che è diverso la ping pong gli spiega che comunque che è uno sport fisio gli spiega che è uno sport fisio gli spiega che bisogna spendere soldi cioè Boratti spiega un po' a Zhang come comportarsi eh è vero che non esiste più il presidente che la domenica va a pranzo con la squadra prima della partita ma non esistono nemmeno presidenti che spariscono io per un anno e che si fanno vedere solo quando c'è da fare la passerella perché ripeto quella scenetta lì nella scala tipo casa Scarface quel video l'ennesimo video registrato dove lui dice conciucci quei chilometri che mi sono faccio per te sette anni una parolina in italiano impara la Steven anche se ormai non ti serve più a nulla ma a parte quello conciucci quei chilometri che faccio per te ragazzi i cinque euro cioè di mercato Moratti ha avuto poco tempo per spiegargli come comportarsi ma nonostante tutto questo ragazzo io da oggi in poi per la dichiarazione per l'umiltà che ha avuto di riconoscere i meriti a Moratti io lo stimo molto bravo Steven puoi uscire a testa alta dall'inter ora per quello e poi riguarda Pinco ragazzi Pinco non presta i soldi stasera con con Ale G spiegheremo chi è Pinco che operazioni fa anche se già lo avrete capito da soli in chiusura di video ricordandovi di iscrivervi al canale se vi fa piacere voglio arrivare a decimila va bene che male c'è se no mi metto a leggere i giornali anch'io e mi metto a fare le messe mattutine di trenta minuti anch'io va bene la mattina come fa quell'altro mi metto lì e fa la messa quello lì che ti disse fascicolo turamma l'inter chiuso vai in voi faccia questo anch'io fascicolo turam chiuso inter fascicolo turam chiuso disse turam va al milan toccatevi i coglioni quando parla quello lì comunque per quanto riguarda Pinco diamo una piccola anticipazione e leggo un messaggio di un utente di rock forever ciao rock forever dopo la sparata di sabato scorso secondo cui questo nuovo fondo californiano avrebbe consentito a zang di ricomprarsi l'iter come già avevano detto a pechino di optri che si sarebbe ricomprato l'inter doc tri attraverso un fumoso prestito senza garanzie con tasto di interesse indecifrabile con scadenza sdrucciolevole disse ai miei amici entro giovedì avrebbero smettito la notizia o sarebbero ricalibrata come mero e temporaneo prestito ponte perché al massimo cioè a ricordi logica cioè potrebbe essere un prestito ponte ma per due tre mesi prima della cessione e infatti oggi è solo mercoledì chissà domani come cambieranno ancora versione se i media brancolano nel buio da anni perché ne scrivono meglio il silenzio fino a comunicato ufficiale in questi tre anni hanno solo disorientato noi poveri utenti male molto male tra l'altro io voglio chiudere questo video stasera vi aspetto il live 22 40 tanto piove stasera da quello che dicono a pechino praticamente questa pinco presterebbe dei soldi ad un personaggio che non ha restituito un prestito che è stato condannato a risarcirlo 320 milioni e che dura fatica a ripagare un altro da 380 quindi la pinco presta soldi a zanghe che non ha restituito un prestito da 320 milioni che non è nelle possibilità di saldarne un altro da 380 senza garanzie senza nulla sta crollando questo vastello di sabbia l'ennesima versione dopo bettarelli lasri soci di minoranza ricapitalizzazioni fasulle dopo 100 milioni per il mercato fasullo dopo l'ennesima bufala sta crollando anche questa del finanziamento l'unica strada percorribile ma no secondo me non ci sarà secondo me ci sarà il passaggio di proprietà diretto ma lo abbiamo detto anche noi in live tre mesi fa ci sono le prove parole dell'avvocato pierre può succedere solo che noi avevamo detto che magari gli dà altri due tre quattro mesi di tempo per far concludere la sessione la storia di zanghe al niter è finita non ha più soldi non ha più modo di mantenerla e bisogna farla finita di dire le puttanate perché ora state diventando ridicoli state difendendo l'indifendibile capisco la seconda stella capisco tutto ma l'inter non si ferma qui l'inter deve guardare al futuro soprattutto in un momento come quello attuale dove non c'è tempo per crogiolarsi più di tanto perché va riprogrammata la prossima stagione che sarà la più impegnativa di tutte in assoluto con cinque competizioni e circa 70 partite e incomincia presto la prossima stagione bisogna organizzarsi perché ora abbiamo la seconda stella siamo l'inter siamo tra le top d'europa ciao 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 ciao